Benvenuto su Maximize Business, il canale in cui parlo di cryptocurrency ma anche tutte le forme di investimento che utilizzo per accrescere il mio capitale. In questo viaggio insieme oggi vi presento un browser che io amo molto ed utilizzo da diverso tempo, Crypto Friendly, perché contiene al suo interno un wallet crypto che permette di essere ricompensati attraverso un token chiamato BAT quando si guardano o si cliccano determinate pubblicità. Oltre ad essere super veloce, super sicuro nella protezione della privacy e nel blocco di tutte quelle che sono le advertising o le cose che possono tracciare la nostra navigazione. Dopo la sigla. Vediamo come si può installare in questo caso, io lo faccio per Mac ma vale lo stesso per Windows, il procedimento di installazione penso che sia ormai familiare a tutti. Introdurre queste funzionalità che adesso vediamo anche attraverso la pagina originale di Brave che è in inglese, oltre alla sua velocità molto alta, ha un ads e un tracker block e dà la possibilità di essere ricompensati per le pubblicità che si guardano e che si cliccano. Questa ricompensa come vedremo fra poco avviene attraverso il token BAT che viene inserito attraverso la blockchain di Basic Attention Token, questo è il nome del token BAT, viene trasferito sul proprio wallet. E vediamo tra poco come installare anche il wallet, qui abbiamo una serie di dati che vengono presentati su come il browser funziona, come blocca i trackers dannosi oppure fastidiosi, soprattutto per la privacy. Ha una funzionalità molto molto interessante che è quello di funzionare in modalità browser Tor, che è il browser che permette la massima sicurezza al mondo e permette ovviamente di navigare poi nel cosiddetto dark web, quello dove ci sono i loopi cattivi, a detta di molti, dove ovviamente c'è molta roba tra cui anche i loopi cattivi, ma questo è un altro discorso. E qui vediamo che vengono effettuate delle ricompense a seconda delle pubblicità che vengono visualizzate e cliccate, tutta una serie di referenze anche di citazioni, di trust di questo browser da grandi portali, portali che hanno molta importanza. Quindi, visto questo overview, qui abbiamo più giù il discorso di uno degli sviluppatori, forse dei creatori di Brave. In linea di massima è un browser che io utilizzo molto anche perché in realtà fa tutto quello che fa Chrome, è basato su Chrome, quindi è una modifica di Chrome, e quindi permette soprattutto l'installazione di tutti i plugin che si possono aggiungere a Chrome. Tra Chrome e Brave ovviamente sceglierei Brave tutta la vita ed è quello che faccio, anche se continuo ad utilizzare anche Chrome, anche Safari. Vediamo adesso come si fa ad andare a creare il proprio wallet, a registrarsi, per avere poi le ricompense. Una cosa molto interessante perché finalmente la nostra privacy non è violata e venduta a terzi, ma tutto ciò che facciamo ci viene dato attraverso una ricompensa. Qui abbiamo il video di uno, un creatore che spiega come funziona Brave, però saltiamo questa parte qui perché ovviamente richiederebbe una traduzione in tempo reale. Bene, appena lanciata l'installazione, facciamo la possibilità di importare anche le impostazioni dal browser preferito, quindi ad esempio i nostri shortcut, i nostri siti preferiti, eccetera. Ecco qui, si può impostare il motore di ricerca ovviamente, tra cui oltre a Google anche DuckDuckGo e si può abilitare le ricompense. Vediamo ora come fare questa operazione qui. Questo permette, come accennavo prima, di creare un portafoglio, cliccando su questo pulsante, un wallet crypto attraverso la blockchain di BAT. Basic Attention Token è un token che alimenta quindi questa piattaforma, basata su una blockchain progettata per premiare equamente gli utenti per la loro attenzione, fornendo contemporaneamente agli inserzionisti un migliore ritorno sulla spesa pubblicitaria che effettuano. Vediamo qui nelle impostazioni che è possibile fare poi una verifica dei portafogli, ma nei portafogli bisogna ancora installarlo, quindi vedremo fra poco come fare. Diamo un'occhiata nelle impostazioni. Possiamo ad esempio, come dicevo prima, importare i nostri preferiti. Le impostazioni io le faccio dal mio Safari. Vediamo inoltre, qui ovviamente chiede di dare l'ok dalle impostazioni del Mac. È una cosa che riguarda il Mac. Possiamo ovviamente scegliere degli sfondi, dei colori particolari, ad esempio un logo del profilo, un'icona nello specifico, un nome. Creando questo profilo si può, questo l'abbiamo già fatto, possiamo andare a vedere anche per esempio tutte le impostazioni, suggerimenti, abilitare il pulsante Home, un po' tutte le impostazioni che di solito troviamo nei nostri browser, in particolare Chrome, da cui deriva. Barra degli indirizzi ampio, mostra barra dei preferiti, dimensione carattere, personalizza colori, zoom, mostra un avviso prima di uscire, eccetera, eccetera. Queste sono tutte le impostazioni che troviamo nelle preferenze. Visualizzazione semplice o visualizzazione avanzata. Ok. Possiamo, una cosa molto interessante di questo browser è quello anche di personalizzare la Home con delle notizie, anche con la visualizzazione del proprio crypto wallet, con appunto la quantità di criptovaluta che deteniamo, che ci è stata assegnata o donata nel processo del cliccare o del visualizzare delle pubblicità. Abbiamo una serie di impostazioni sulla privacy e sicurezza, quindi tutto ciò su cui deve tenere focus il browser, su cui deve stare attento. Possiamo impostare le password, i metodi di pagamento, le carte di credito, tutto abbastanza blindato. Vado ora a creare il portafogli. Si clicca sulla verifica portafogli, questo è il solito annuncio della traduzione, si atterra sulla piattaforma UFOLD. Si possono inserire i propri dati, nome e password e la country, quindi la nazionalità, la nazione in cui si risiede. In questo caso vado a selezionare Italia, qua chiede anche la provincia addirittura. Ok, qui ci sono alcuni disclaimer da accettare, termini e condizioni. Non accetto quella su cui cedere, insomma, la privacy. Ok. Qui mi chiede il mio nome e cognome, adesso si attuerà un procedimento di KIC, quindi know your customer, cioè conosci il tuo cliente. È una procedura che ormai tutti gli exchange o comunque i principali attori del mondo criptovalute sono, diciamo, tra virgolette, obbligati a richiedere per non avere problemi seri con le leggi dei propri stati, con il fisco, eccetera, con le regolamentazioni. Si fa la registrazione su YouFold e arriverà ovviamente una mail sull'account Google che abbiamo registrato. Andiamo quindi a confermare questa mail. Qui si passa la verifica dell'identità. La registrazione può essere effettuata attraverso un procedimento che farò a breve. Si può scegliere se farla telefonicamente, cioè con l'utilizzo di un'app del telefono, oppure con la webcam. Questo per sottoporre la documentazione, i documenti che di solito è l'invio di una patente o di una carta d'identità o di un passaporto. Quindi possiamo fare, diciamo, questa verifica. In questo caso si chiede di preparare un documento in corso di validità ed utilizzare lo smartphone. Si può scegliere se farsi inviare il link tramite un sms oppure inquadrare il QR code per essere rimandato al sito su cui si attiverà poi la verifica. Ok, attivo il mio telefono, inquadro il QR code. Qui mi appare il link. Benissimo. Di nuovo chiede di selezionare la nazionalità, il tipo di documento. A questo punto si sceglierà di posizionare il documento davanti alla telecamera nel modo in cui viene indicato. Qui inserisco il mio documento, il mio passaporto ovviamente oscuro questa parte qui per non visualizzare i miei dati sensibili. Ovviamente una volta inquadrato e fotografato viene richiesta la parte del viso, quindi l'inquadratura del viso. Ovviamente ci sarà un controllo che le due cose coincidano nei tratti somatici. Devo dire che la verifica è stata abbastanza veloce. Viene effettuato un check automatizzato e dopo qualche secondo la verifica viene passata. Cliccando infatti ora su verifica il portafoglio ci apparirà di conseguenza la notifica di portafoglio verificato. Eccolo qui. Infatti si può andare adesso al proprio account uFold il quale ci avvisa che la verifica è stata effettuata e sei a posto. E qui abbiamo la possibilità ovviamente di verificare il nostro portafoglio con le criptovalute che può contenere. Ovviamente non può contenere solo BAT ma anche tutta una serie di cripto tra cui ovviamente anche Bitcoin. Ora vediamo com'è possibile installare Brave anche sul proprio smartphone che sia Apple o Android, Samsung, quello che volete. cercandolo ovviamente nell'app store si effettua la procedura di installazione. Qui ci sono ovviamente delle pubblicità, degli advice in cui ti fa vedere come è possibile come Brave riduce gli alert, protegge la privacy e come è possibile anche guadagnare attraverso le pubblicità mostrate sui siti, nella navigazione e quelle che vengono proposte. Vediamo com'è possibile parallelamente anche configurare il wallet di Cryptocurrency BAT all'interno di Brave. Cliccando infatti in alto a destra nella barra di navigazione avremo una panoramica del nostro portafoglio con la quantità di criptovaluta BAT presente allo stesso identico modo che accade sul browser del PC. Abbiamo anche una serie di informazioni che ci vengono mostrate sugli annunci e sistemi di tracciamento bloccati quindi tutto ciò che riguarda la privacy della navigazione. Faccio vedere adesso come nel mio browser Brave dopo aver cliccato su alcuni annunci che mi sono apparsi risultano già accreditati 0.2 BAT che attualmente corrispondono a 0.03 anche di più perché il cambio attualmente è molto più favorevole perché BAT ha acquistato valore. Ci sono poi altre impostazioni in basso a destra dove è possibile vedere i preferiti, la cronologia, download effettuati. È molto simile a Chrome in questo però ha uno stile tutto suo, uno sfondo personalizzabile. Per concludere questa panoramica sul Brave browser ricapitoliamo sicurezza e privacy molto molto alta, velocità, possibilità di avere attraverso la blockchain di BAT, della cryptocurrency BAT, delle ricompense quando vengono cliccate, visualizzate determinati annunci. La possibilità anche di navigare attraverso il browser TOR che si basa appunto sull'Onion Routing, il browser più sicuro al mondo a livello di privacy, quindi non permette la tracciabilità di nessun dato in caso questo sia una necessità vostra. E se vi è piaciuto questo video, se vi è stato utile soprattutto, vi chiedo di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per i prossimi aggiornamenti su Maximize Business dove tratto temi soprattutto incentrati sulla mia passione che sono le criptovalute ma anche altre forme di investimento che ho abbracciato nel tempo per aumentare il mio capitale, i miei risparmi, pur essendo un lavoratore dipendente e facendo altro nella vita. Quindi grazie a tutti e ci rivediamo da Maxi. Grazie a tutti.